Grazie Presidente, cari colleghi, signor Commissario. Io credo che se oggi potessimo ascoltare la voce di un piccolo imprenditore in quest'Aula ascolteremo anche una storia più preoccupata dei dati che ci sono stati forniti e soprattutto per quelli che sono i quattro problemi strutturali col quale questo settore, che è un settore cruciale, che fa parte dell'identità dell'Europa, deve fare i conti, vale a dire aiuto all'internazionalizzazione, deburocratizzazione. Democratizzazione, abbiamo ascoltato quali sono gli ostacoli semplicemente per pagare l'IVA nei vari Paesi. Innovazione e accesso ai fondi strutturali che alcuni dei nostri Paesi non utilizzano come dovrebbero e accesso al credito. Non è ammissibile, signor Commissario, che l'Europa ricapitalizzi le banche senza porre loro condizioni stringenti perché facilitino l'accesso al credito verso un settore cruciale dell'economia europea come le piccole e medie imprese. Oggi non premiate, ma ricattate se non strangolate da parte degli istituti di credito.